Welcome to hell Allora è destino che non devo trovare Pokémon d'acqua di oggi Cadabra Poi c'è un allenatore Ah lui dovrebbe avere Pokémon d'acqua, ma lo sfido Ciao Vediamo se ti ha lasciato dei buchi in mezzo all'inventare Vedi un po' Vedi un po' Minchia c'è Blastoise Possibile come non lo so Non avevo visto la tua cesta prima Io devo controllarmi Swinehub pure C'è Piloswine Vediamo se Gravulet ce la fa Contro Swinehub Così così Oh mi ti caccio a parte da casa tua Nooo Che falle Mi è morto quello Vabbè Vabbè socializzato so che è debole contro Blastoise Se no poi vi faccio Dragon Rage e lo spacco Ancora Kuro Ragazzi che fail Godin poi Rivelo 35 Vabbè vai Godin 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 Ah Godin Aia Che cazzo Poi dimmo un Squirtle Rivelo 36 Squirtle Ma c'è qualcosa che non va Allora andiamo di là Tanchi 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 Ah no È Piloswine Dovevo vedere Quanti cazzo di Pokémon c'ha questo Allora Firefang Mi shatterà con un colpo appunto Shaptail Leaf Play Mi è morto finalmente Pagengar Shadow Bull Fury Cutter Vieni L'ho shottato con Shadow Bull Ancora Shadow Bull Pam Cosa che mi ha dato? Aaron I dollari Poké Bull Vai Ah non mi hai dato le Ultra Bull te È vero Cosa? Non mi hai dato le Ultra Bull Vieni qua muoviti Arriva Io sto al centro Pokémon Sto cercando di catturare un Piloswine Lo sono due Pokéball Vediamo se entra Mi sono come un idiota Se entra bene Se no è shottato male Metal Clow Vai Vediamo Aaron al 27 che batte Piloswine al 44 A posto Bisogna di Pokémon d'acqua Pokémon d'acqua Pokémon d'acqua Sto logando ancora? No Ok Piloswine Sono acqua Vero? Quindi Visauro è forte contro No È terra Ghiaccio È forte in parte È debole contro Cioè Se ti fa mossa di tipo ghiaccio Ti shotta Aspetta devo fare una cosa No Volevo spostare Ok così Perfetto Ora sono al centro Pokémon Ora ti ho visto Sì Lui Lui è al centro Pokémon L'ho visto Grande Visauro In realtà che sto shottando di Sveinamon Buona Hai Visauro Bam Shottati Non ti dimentichi nulla E che? Che è successo? È un ultrapollo Ah scusami Allora Te devo dare 20 10 10 10 è il valvo 20 Ecco qua 10 10 Perché io ho due l'ho usato Un città Un città Un Magikarp Perché lì lo sei Magikarp Wow baffette Wow baffè Ho un primplup minuscolo Wynab32 Vieni qua Vai La gente vola Chi è giù che sta su Charizard La gente che vuole Vabbè Altro che Pokémon Volante Il mio è un Pokémon Volante Devo cambiare Pokémon? Non so come attaccare sto coso Sceptile vai Non c'ho più voglia di combatterlo così Allora Leaf Blade Per curare di nuovo i miei Pokémon Merda Primplup è esplosa Non era il tuo ovviamente Medicaccio pur No il mio è già in polio Ah ok Quindi non è il tuo No no Più che altro mi preoccupano Quei tizi Da vicini a casa nostra Verso casa nostra Eh lo so Infatti io ho paura Io allenerei i nostri Pokémon Tanto l'acqua ce l'ho vicino Quindi io direi che vado a casa A allenare i miei Pokémon Ok 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 non lo butterò mai giù L'ho messo Deflate Siamo tutti a registrare Allora io direi che Mi prendo Charizard Quando vogliamo rispondere Grazie Ok Mad Bomb Pantano Bomb Io vado a casa Che non mi fido Ah se mi trovo lì Vuol dire che il mio fiuto È stato esatto Già una volta sono venuto a casa Quindi sanno dove sta Eh Da già Ok ragazzi Per ora non vedo nessuno Eh quando vogliamo rispondere Eh vabbò Nessuno c'è a casa Perfetto Ok su Siamo saluti Non c'è nessuno In tutti e due i sensi Sia a casa mia Che a casa Di Minecraft Ok là c'è Io provo a fare pesca grossa Eh no Continuate Ancora Non dovrebbe essere già caduta La linea No ci sperano Ci sperano Aspetta Vado a controllare Prendi che c'è qualcosa di importante No ok Non lo Ho smesso Ecco Mi ha scioltato Senti ma hai dei Pokémon d'acqua Ironed Inutile Appunto Mi ha scioltato Porca miseria Mi ha chiappo uno I Pokémon d'acqua Perfeng vai Takedown Non la voglio Allora Andiamo A casa Mi hanno scioltato male Marshtumb Lo volevo fare Volver Eccoli Eccoli Guarda questi Guarda Io lo sapevo Io lo sapevo Arrivo Arrivo io Stavo proprio vicino a casa Arrivo pure io Guarda come fanno a dire che pescano Guardalo Sì 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 Pescate eh Eh sì io sto andando Eh proprio eh Lu Io stavo andando a casa di Ema addirittura Da portoposta Sento Allora solo sono qua io li guardo Adesso tu devi venire Eh sì 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 Lo vedo Solo vieni qua immediatamente Arrivo arrivo Allora li abbiamo fermati in tempo li abbiamo fermati Allora devi venire Siamo proprio vicino a casa tua che fanno finta di pescare questi bastardi Puoi entrare un attimo Mi sono messo a scappare Luca è retina, sì sì Vai un attimo a prendere un attimo la mia Firestone a casa Prima che me la fregano Una seconda chest da sinistra dovrebbe essere Firestone, ok ho la Firestone e il Revive pure No mi serve solo la Firestone Ok la Firestone ce l'ho, tranquillo Almeno quello si deve salvare Il Blade's Power No non mi interessa, solo quello Tung Esche che è andato Comunque se ne sono andato C'è un Gold Duck Lo posso spaccare con i Visaur Vedremo Gli ho visti, li stanno sulla dove c'è più o meno cosa fare Eh hai capito Eh, sei a casa Sono sul porto Perfetto, pure io sto al porto Proprio sopra Abbiamo sventato una rapida Gold Duck Per spaccare un Gold Duck a livello 45 Ecco sei esploso No, ma come è possibile? Dai un colpo mi ha fatto Aspetta il radar, ti fammelo togliere Raterò Stai spacciato? Stai spacciato? Non spaccio io? Eh vabbè con Marowak lo vuoi affrontare tu No, ho fatto rage, ho sbagliato Apposto Col Duck Ok Che palle però Passa, passa Tieni, tieni Perché mi servirà per far evolvere Growlite Solo che devo aspettare che arriva il 40 Quindi ce ne vorrà Ok, stanno là giù Abbiamo sventato una rapina alla grande Lo chiamano così questi episodi Quanto sono arrivati di registrazione? E a me ho paura di lasciarli qua dentro Quindi io direi Registrano male che vada a facciamo più episodi Sì Io non voglio proprio lasciarli Questi di casa mia Quando si disconnettono Io smetterò di registrare Allora l'ender chest Come si faceva? Mi faccio l'ender chest così così Ferro Ehm GG Hai obsidian Ce n'ho uno nella mia chest Vai Eh no, ce ne servono nove Quanto ce ne servono? Nove Che facci? Ma spaccato io Fammi, è super efficace addirittura Leaf Blade Adesso mi manca solo Torchi Ci ho tutti Tutti gli starter Della terza generazione Eh eh Ma non è della prima generazione Signora Zona Indovina chi ce li ha Tutti e tre gli starter Però che cazzo I visauro non la smette di morire Lo so come mi scrivono nei commenti Sei un babbo di merda Perché vado quelli a Quelli di livello alto Però guarda Guarda lui come ritorna Ok aspetta Metto il golem guardiano adesso Direttamente Il golem guardiano Lascialo dai golem Guarda C'è un robot de chai Lui l'aveva visto da lontana e ha detto Questo è qualcosa Oddio Quanti pokemon d'acqua Alla guardia lui Eh sì Però non mi servono Quelli da toffa Ma non c'è altro Qualche pokemon d'acqua In riva No Eh sì C'è Davanti a casa tua c'è C'è anche una show Wot nel tuo Giardino Stai lagando come un Culo Sei partito Alla C'è C'è Un show Wot penso Un show Livello Wot 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 Sì Lo sei E perché c'ho La spreco sta ultra ball La spreco Mi fai scendere Mi fai Tutto quanto Eh scusa Stai laggando Madonna si stai laggando Ok ragazzi Se esce dalla ultra ball Ecco qua Uscito dalla ultra ball Perfetto Quindi adesso lo spacco Mi spiace per lui Ok Io non volevo Ma l'ho dovuto fare To make you so Discreate Grazie a tutti.